Oggi ragazzi parliamo invece delle rughe diffuse. Come vi ho detto, tipiche di quella pelle se siamo già grandi, quindi per le persone sopra i 40-45 dopo la menopausa, quella pelle che si presenta molto sottile, molto delicata, tendenzialmente un pochino più secca, con rughe diffuse, proprio come se fosse una rete, sono come piccole increspature più che rughe. In quel caso è importante mantenere forte la pelle, quindi ovviamente la normalizzazione fisiologica per avere una pelle assolutamente elastica, il siero più indicato in quel caso, il siero cronolift e il set cronolift e assolutamente il guascialift il più indicato a quel tipo di rughe. Perciò tutto il trattamento guascia completo, che vedrete ora, vi allego a questo video, quello che è più indicato da fare per questo tipo di rughe. Eseguite questo protocollo tutti i giorni, quindi tutti i giorni, una pelle normalizzata, tutti i giorni il protocollo guascialift, che ora allegherò come proseguo di questo video, il siero più indicato, cronolift, insieme alla sua maschera cronolift mask. Buon trattamento! Benvenuti al trattamento facelift by Bisol. Primo step, come sempre, la detersione fisiologica con Hydra Milk Cleanser. Dopodiché siamo pronti al nostro trattamento guascialift. Dopodiché siamo pronti al nostro trattamento guascialift. Dopodiché siamo pronti al nostro trattamento guascialift. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ed ora siamo pronti a concludere il nostro trattamento facelift guascialift. Applicate poche gocce di cronolift serum su tutto il viso, ma in modo particolare nelle zone dove vedete delle piccole rughe. E a seguire applicate una fiala di cronolift mask. Lasciatela in posa tutta la notte e il mattino seguente la vostra pelle sarà veramente a top!